Ivan il Matto si è gettato in una vasca con il latte bollente e quando è emerso era diventato uno zar, quello buono. Lo zar cattivo invece è rimasto cotto nel latte. Eccolo un sogno millenario del popolo russo, una speranza implacabile di trovare uno zar buono. Ecco perché gli zari impostori hanno sempre determinato la storia della Russia. Io sono Katia Nesterenko ed ora vi spiego perché. L'impostore Dmitri, l'impostore Pietro, l'impostore Alessio ed altri falsi compagni che parrivano nella vita di quello stato come i funghi dopo la pioggia. Perché i russi li cercano questi impostori? Dicono che sia causa di una malattia. Una grave malattia della personalità russa che cerca un sostegno esterno, rinuncia facilmente a se stessa e lotta così avidamente per le personalità e le posizioni forti degli altri. Korolenko, scrittore. Gli impostori sono ovunque, ma solo in Russia in tale quantità industriale. Solo nel diciottesimo secolo venti importanti impostori operavano sul territorio dello Stato. Il diciottesimo secolo fu il secolo del loro massimo splendore. Erano comparsi più di ottanta falsi zar. I russi hanno sempre aspettato un vero sovrano santo, forte e giusto. Colui che proteggerà i suoi servi e loro obbediranno felici. Tuttavia c'è sempre stato un grande divario tra sogno e realtà. L'autocrasia che aumentò notevolmente dopo Pietro il Grande. Li rese apertamente schiavi, ma allo stesso tempo iniziò l'uso di termini illuminati sulla condizione delle persone, sulle leggi reali. Questa situazione diede origine a impostori. La discrepanza tra la forma e la realtà, il gioco dei fantasmi, questa è la base per la truffa. Edelman, storico. La gente seguiva gli impostori che promettevano giustizia a decine e centinaia di migliaia. Ovunque apparissero i falsi zar, scoppiarono rivolte di massa. Gli impostori furono combattuti con le misure più crudeli. C'era una vera caccia tra le compagni. Così ad esempio è come per il moscovita Ankudinov, che fuggì all'estero e lì si definì un principe. Nel 1650 l'impostore arrivò in Ucraina, dove voleva reclutare un esercito dai kosaki e conquistare il trono. L'ambizioso impostore fu catturato dagli agenti zarristi e portato a Mosca. Lì venne torturato e giustiziato. Però cent'anni dopo, Emiliano Pugaciov non fu fermato. Non fecero in tempo. Si fece chiamare imperatore Pietro III e divenne il capo di una delle più potenti rivolte del XVIII secolo, che le truppe zarriste affrontarono a malapena. Questo imbroglio è un squisitamente russo. Ad esempio, non appena l'influenza russa iniziò ad aumentare nell'etmanato ucraino, gli impostori arrivarono in queste terre insieme ai monaci, ai soldati e ai funzionali russi. All'inizio del XVIII secolo ci fu un vero afflusso di principi Alexei nell'etmanato. Questa ondata fu provocata dalla morte del edere del trono reale, figlio di Pietro il Grande. Uno di questi impostori era Aleksandr Semikov, un soldato del reggimento dei Granatieri, e il monaco Ivan Mititsky. Nel 1739 divenne il più famoso Alexei dell'etmanato. Già nel 1739, due anni dopo l'esecuzione di Mititsky, fu processato un nuovo impostore, il monaco Iraks. Scrisse persino una lettera alla zarina Elisabetta, nella quale si offrì di regnare insieme. A proposito, gli impostori erano esclusivamente zar o principi. È successo solo una volta che una persona si definì Getman con pretese di potere sulle terre ucraine. Vasily Vashilo, che si faceva chiamare nipote di Bogdan Kmelitsky, sollevò una rivolta nel territorio dell'ordiere in Bielorussia. Non c'erano più i falsi Hetman. Tutto perché gli ucraini non sono mai stati sedotti dall'idea della sacralità e della santità del potere supremo. I russi però non hanno mai abbandonato l'idea di uno zar forte e giusto. Anche oggi lo vedono nel colonnello grigio dalla KGB. Una cosa però sarebbe sia ritenuto forte. Ci sono problemi con la giustizia. Cioè significa, l'intera storia russa ce lo dice, che i prestini inizieranno a cercare un nuovo zar.